Obiettivo, evitare un'altra domenica di passione come quella della settimana scorsa. A Salerno si lavora per mettere in campo tutte le contromisure necessarie per scongiurare il caos traffico. L'assessore alla mobilità Mimmo De Maio, insieme a forze dell'ordine prefettura, ha predisposto un piano specifico che prevede più agenti in strada. Ma è necessario, e il monito, anche un coordinamento con i sindaci della costiera amalfitana. Abbiamo messo a punto un'attività di coordinamento, in questo caso con la polizia stradale. Infatti sono stato in contatto con la società e con la polstrada, oltre chiaramente alla centrale dei vigili urbani, che mi aggiornavano sulla condizione che si stava registrando nella nostra città. Quindi chiaramente è stato un evento eccezionale, daremo l'opportunità, creeremo le condizioni per un maggior raccordo, perché soltanto un'attività di raccordo può eventualmente garantire un miglior governo di situazioni di questo tipo, che però parte dal presupposto che sono eventi eccezionali che vanno governati attraverso funzioni e ruoli di più soggetti. Assessore, è corretto dire che già da domenica ci saranno anche più uomini in strada, oltre chiaramente al coordinamento a cui lei faceva riferimento? Assolutamente, perché tengo a precisare che insieme al sistema della mobilità noi dobbiamo mantenere alto il sistema di controllo su lungomare, perché c'è tanta gente che viene in città per quanto riguarda il problema degli abusivi e di chi fa attività di mercanzie in maniera impropria. Quindi dobbiamo comunque mantenere un livello, quindi c'è bisogno di uomini. Certamente più uomini abbiamo, più abbiamo l'opportunità di dare risposte significative, ma come dicevo prima, nel caso specifico si è trattato di un evento eccezionale che abbiamo registrato in tutta la regione.